chi siete? siamo due che... cosa fate? cosa portate? niente roba... si ma quanti siete? due stiamo io a lui dietro non c'è... un fiorino si paga? un fiorino oh fermi, fermi, fermi... scusi il sacco, i doccanieri! va bene, allora... chi siete? quello che è passato adesso con il carro, c'è caduto il sacco qua cosa portate? niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, stavamo qua e caduto il sacco si ma quanti siete? uno! eravamo due quando siamo passati, ora uno vado a prendere il sacco un fiorino! ti hai caduto il sacco, allora la stavessata... un fiorino! passiamo per lì! grazie! ehi! chi siete? quelle di prima sono venuto a prendere il sacco cosa portate? porto... oliva, cacciotta, pane, un po' di... si ma quanti siete? uno! io sono entrato e tu scendo, no? un fiorino? c'è uno entra e esce, cosa sembra un fiorino... siamo due, tre... grazie, arrivederci! holy! ok, ecco... sei andato! che siete? eh! ma d'ep... come guardate? si ma quanti siete? un fiorino! ehi! chi siete? cosa portate? si ma quanti siete? un fiorino!